Ieri va della giornata, razzarimmo le idate, con bravure io tal dis, la mia tua parenti amici, tutti insieme in tecchia giù te, scoltarimmo le storiute, con tiz'rucce muschidi, ogni dissi fa scusì, tutto il piede o franculo l'anno, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta per piacchia la mamà, tutto il piede o franculo l'anno, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta per piacchia la mamà, e non sta alla lontan, lontan, sta per piacchia la mamà. Mandi, frutti, benvenuti, vi sono passate una buona settimana, c'è un tese là della vostra giornata? C'è? Perché ho sfasso queste domande? Semplice, perché io e Chiara ho deciso di farlo proprio dai momenti delle giornate. Sì, e per farlo insieme con voi altri, ho deciso di proponere un gioco interattivo. C'è di seso? Volei provare a giocare con noi? Sì? Bene, allora, pacchino! O savez che la nostra giornata è formata di cinque momenti. La buonore, il misdi, il dopomisdi, la sere e la notte. Vi ho dinkumò, se o savez mette l'ordine giust da l'un al cinque, questi immagini che io rappresentino. Vecchia l'ordine giust? Buonore, misdi, dopomisdi, sere e notte. Dentri di questi cinque momenti, assomgne vorrei l'istazione che si usa a sa fa. A buonore, c'è sì fase al par solito. Fruits, quanto è buonore e su nella me svearine. Parvo altris, c'è so io usate a fa. A, mi svei, mi svei, mi disgrisignis, ho sosedi e ho lievi da l'iette. E io, Fruits, dopo jessi mi sveade e alciade da l'iette. Parvo altris, c'è so io usate a fa. la risposta è giusta, e ieri è la lettera B. Io, dopo jessi mi sveade e alciade, ho voi, talbai, parfasi, sì, e parlavami. Anche io ho fasco sì, tutti gli sbuinori, e dopo che mi so il lavade, la risposta è giusta, e ieri è la lettera A. Dopo che mi so il lavade, ho voi in chiamare a Vistini. Come vi ho detto, se ho saputo di mettere l'ordine giusta, queste azioni che per solito si fanno via per buon'ore. Venga stai? La a scuole Fagulizion Sentassi in taule par gustà. L'ordine giusti per queste azioni ha la chiesto. Prima Fagulizion Secondo La a scuole Tierc Sentassi a taule par gustà. Brass fruits! Mi parco con io sedis ben i momenti di buon'ore, e tutte le azioni che per solito si fanno appena di smoz, e fin ai ore d'algustà. Venga stai fin al misdi. Egli è vero, Mi di gustà o giui oppure o pisoli, un po' par straviami. Po' dopo fassi compis di scuole e da spò o torni a gioare insieme con Chiara, Fri e Ulli, e qualche volta anche con che il poltron di vigli. Ma quando il sorella è al vaiù e arriva la sera, è il momento di tornare a casa, di dare una mano per parecchiare la tavola, di cenare, e magari di passare un po' di tempo in fama. E quanto arriva la notte? Se so boins dimettita l'ordine just, li simmaggins che rappresentin l'isazione scufasin, quanto la sera è finis. L'ordine just ha li richiesto, lavassi dinti, li svistissi, e metti si il pigiame, scoltà un e biele conte, e dormì. Voi vi ho indovinato? Bravus! Bravus non! Voi altri sì cosa sapete, c'è mut che gli fate una giornata. E come ho, che hanno tempo a ripassare. Brin, 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 sull'elaster, e gli è veduta la fame, a essietti e scomenciade, cum morbim la mezzornade. prime robe di mattine, o cosvelte in te cosine, o prepari un panino, lattiscoz per pulizio. Solti in bai, o voi lavami, un po' di corsa preparami Come ti torcano i piedi stessi, e le scarpe si impaitis E' una forte campanella, quant'età che ben la scuola Soi contente di studiare, e tantiss robis di imparare Se tu us lo provis di, fasne polse va a dormire Ma se tu venis da giocare, spietan l'ore di cenar Alla sera e tutti accene, tan contenza o panze e glene Col pigliano e pipino, va a dormire con che gli egnò Fasino anche ma un giug Vi ho detto se ossessi buoni di ricordare Quali sono i cinque momenti fondamentali che formano la nostra giornata? A. La gulizion, la mirinde, il giringel, l'aperitif e la cena B. L'ha a scuole, gioca con i amici, parecchia la tavola, scolta un econte e l'ha a dormire C. La buinore, il misdi, il dopo misdi, la sere e la gnot La risposta è giusta La risposta è giusta La nostra giornata è formata di questi cinque momenti La buinore, il misdi, il dopo misdi, la sere e la gnot Ve vi so' induvinat Braas Vole so' ascoltà cum no un gnu fchiapitul dal picciul princip? Sì, allora, scoltinlu insiemi Il quarto planet All'ere è il planet di un uom di affars Che stomp All'ere è così chiappat Che non alcià nanchi il chiaff Quanche il picciul princip arriva Buondì I di sé Oves il sigaret di studat Tre e due cinque Cinque e siete dodis Dodis e tre quindis Buondì Quindis e siete vinci e doi Vinci e doi e sis vinci e vota Noi è tempo di tornare in Pialu Vinci e sis e cinque e trenta e un Uff Ha sono dunque Cincent e un milioni Sis cent e vinci e doi mil Siet cent e trenta e un Cincent milioni di c'è? Po Sì stuxi impri lì Cincent e un milioni di Non sai più Ho hai tanti che il c'è fa Ho sei seri Io non mi pierda Ur stupides Doi e cinque siete Cincent e un milioni di c'è? Al tornare di il picciul princip Che mai di vita sono All'aveva lasciato coriune domande Una volta è fatta La fareste All'alcià il chiaff Ha sono cinquante e quattri anni Che ho vif su questo planet E ho sei stato distiolto Dome tre volti La prima volta Vinci e due anni In Daur Per via di un scusso Che all'ere plombato Io sepidio di indola Al faceva un Sonsurt al diavolo E ho hai falato Quattri volti Tu ne sume La seconda volta Già un di Sainz Per un attacco di reumatics Mi muro ma se poco Non hai tim di là Tordibant Ho sei serio La terza volta Vele chi Odisebi dunque Cincente e un milions Milions di c'è L'affarista Al capì che non poteva sperare di vedere ben Milions Di che s'robitis che si viodin qualche volta Dal Cil Moschis Ma no Robitis Che allusin Afs Ma no Che s'robitis di aur Che ha fase insumià di banti Pucefadie Ma io Soi serio Non hai tim di Pierdimi vie Ah Stelis Propi Stelis E ce fai tu Di cincent milions di stelis Cincent e un milion Siscente Vinti e doi Mil Sietcent E trenta e une Ho sei serio Ho sei meticoloso E ce fai tu Di questi stelis Ce fai io di l'or Sì Nui è Ho sei paron mio Tu sei paron De stelis Sì Ma ho hai già vioduto un re che I res non sono parons L'or ha regni in parsore E io ne bia le differenze E c'è ti giovi al sei paron De stelis Mi giove a sei sior E c'è ti giovi al Sei sior A comprare tre stelis Se qualcuno Anchiate Io Ho hai une rose E le bagno ogni di Ho hai tre vulcani E gli uniti ogni settemane Parvie che ho niti anche Quel che l'ha studiato Non si sa mai Alle ben poi i miei vulcani E per me rose Che ho sedi il loro paron Ma tu Non tu fasi Snuie di buon pestelis La fariste Al viarge la bocce Ma noi vigni su nuie C'eris puindi E il picciul principe Alle vie I granchia Son propi straordinaris Al di sé vedome Tra di sé Intanto Che alleve Induvine induvinel Ho pierdo il chiaf A bui nore E lui torni a chiatà la sere Cui so io Il cussin La bui nore E gli è fatta Par dismuovisi Il misdi Par gustà Il dopo misdi Par pisulà La sere Par indurmidisi L'agnò Par dormì Non resta mica Tanti in blibar Par dormì Ben tatà Sman Kink Bush Kink Hip Kink 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 Quattro passi a drette, poi batti gli sman, quattro passi a ciampe, poi batti gli sman, un salti in denan, hop, un salti in daù, hop, e finì in conto un girut. Un salti in denan, hop, un salti in daù, hop, e finì in conto un girut. Ciao! Insumis. Quando arriva l'agnote, dopo di aver metto il pigliame, magari ascoltato un bel conto, ho fatto così tanti srobis che... ho l'indresso a dormire. Proprio come che tu fasi stu ogni dì. No, ma frutti. Mamma. Ieri va della giornate, rasarim un'eridate, con bravura io talvis, la mia tu, pari il camis, tutti insieme in tecchiazzute, ascoltarim un'estoriutte, con ticcucse muscidì. Ogni dì si fa smussì, tut blu i bied o gran pullan. Non sta pierditi papà, non stalla lontan, lontan. Sta fai piaccia alla mamà. Tut blu i bied o gran pullan. Non sta pierditi papà, non stalla lontan, lontan. Sta fai piaccia alla mamà. E non stalla lontan, lontan. Sta fai piaccia alla mamà.